Presidente, prima tappa del tour La Terra dei Padri, è sicuramente un momento per ricordare il passato ma per guardare anche al futuro? Sì, un progetto promosso da Fincalpe della Regione Calabria al quale la provincia di Grotone ha aderito con forte convinzione perché è evidente che riteniamo l'idea geniale che si pone come obiettivo quello di accogliere i milioni di calabresi che sono fuori non solo dalla Calabria ma dall'Italia in giro per il mondo e quindi un turismo di ritorno, un'idea secondo il nostro modesto parere vincente e motivo per il quale l'abbiamo aderito con convinzione al progetto. Il progetto lo sta portando avanti l'assessore Orso Marso? Sì, il progetto promosso da Fincalabra ovviamente ha a che fare con l'assessore del turismo della Regione Calabria oggi presentiamo proprio la prima tappa del tour del progetto Noi Terra dei Padri proprio perché andrà in giro per l'intera Calabria, per le cinque province l'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i comuni ad aderire al network del progetto per fare in modo che ogni comune sia pronto ad accogliere il proprio cittadino che oggi o da tanti anni vive all'estero. Grotone è sempre stata nel passato l'isola Felice nel senso che con le fabbriche sono tornati nella nostra terra. I crotonesi e i calabresi sono arrivati anche da altre regioni, questo dopo che c'è stata l'immigrazione del post-guerra. Quindi adesso si prova a fare in modo che possano tornare tanti calabresi, tanti crotonesi in una terra che ha bisogno anche di questo sostegno. Beh sì, per questo il progetto è ambizioso perché fondamentalmente è un processo al contrario, nel mentre assistiamo all'esodo dei calabresi verso il nord piuttosto che verso l'Europa alla ricerca di un posto di lavoro, nel mentre questo accade, accade anche il contrario. C'è chi si adopera e lavora per creare i presupposti per garantire il ritorno di questi nostri concittadini, un ritorno felice, un ritorno cordiale, un ritorno fatto di accoglienza che ovviamente ci contraddistingue come territorio e deve essere sempre il punto di forza rispetto al resto d'Italia. Ecco, un territorio che si contraddistingue anche perché noi pensiamo al turismo, pensiamo a un turismo che non è soltanto il periodo estivo ma c'è questa rete che può essere accoglienza, ospitalità, che può essere anche un sistema che possa mettere in evidenza tutto ciò che appartiene a Crotone e Crotone. Beh, Crotone e il suo territorio e tutta l'intera provincia è particolare proprio per questo. Non c'è un settore del turismo che non ci appartiene, da quello balneare a quello montane, a quello culturale, a quello religioso, a quello delle minoranze linguistiche. Non c'è un settore del turismo che non ci appartiene. Ecco perché noi ci candidiamo con convinzione a qualunque tipo di progetto di accoglienza turistica perché siamo pronti in qualunque periodo dell'anno a raccogliere i nostri concittadini nel contesto turistico che si ritrovano a seconda della loro provenienza. Che sia montano, che sia balneare, che sia religioso, che sia culturale. Insomma, noi ci stiamo adoperando per far ritornare i tantissimi nostri concittadini.